Invece cosa si fa? Corsione sul destro chiuso e poi BAM! Finale. Metto quello che ho fatto prima. Proviamo solo per provare. So che loro dovranno lavorare molto per correggere questa cosa, per fare bene questa cosa. Anna cominci tu. Allora il sinistro. Pensavo per non c'entrare l'albero. Ragazzi, il sinistro passa di taglio e cerca l'anticipo. Antonello, il sinistro passa di taglio e cerca l'anticipo. Guardatemi, non è lento lento lento, perché se no questo parte te lo fatele pure. Per eliminare subito il piede a terra, ok? Di taglio. l'anticipo. Guardi. Ehi. Ma cosa vuoi fare? Vieni qua. Mettete l'anticipo. Ti salvi che puoi. Non lanci. Giri, giri, giri. E poi lanci. E poi lanci. Sì. E poi lanci. Brava. Oh, questo è il barasù. L'errore di finale è il solito. È il solito. Via. Guarda Martino, via. Adesso me lo fa pure Martino. Ricordando sempre il passaggio largo, tutta quella cosa che abbiamo detto prima. Va bene. Ferma là. Fai il preliminare. Ti tiro sulla lampietta e tira. Va bene, va bene. Ecco. Lei non è arrivato il piede. Lei non è arrivato il piede. Perché non è arrivato il piede? Si è alzata. Guardatemi, il piede non arriva. Devo rimanere alla stessa altezza. Guardatemi. Là, subito. Una ragazza che si alzava. Sapete cosa gli ho fatto io? Cintura da bodybuilding. La camera d'aria della bicicletta. Gliel'ho legata. Gliel'ho fatto tassare nella scarpa sotto al piede. Tutte le volte sentiva la molla. Non l'ho fatto più. Fantasia, ragazzi. Usate quello che volete. Anche esercizi non codificati. L'importante è che risolvete il problema. Va bene? Ragazzi, dai, su. Veloce. Chi è che se la sente di provare? Luca? Signore. Signore. Metti il caldo. Poi, vieni il caldo. Poi. La sicurezza. La sicurezza. La sicurezza. Non so mai. Gira il male. Piega la gamba. Piega. Piega la gamba. Piega. Piega la gamba. Piega la gamba. Piega la gamba. Piega la gamba. Ma bene? L'importante è capire il movimento. Poi, tutto il resto si sistema. Ragazzi, ma se dovete lavorare come pazzi, sennò queste cose non vengono metabolizzate. Capito? Dai, cuore innamorato, via. Brava. Destro avanti. Piegate le gambe. Oh! Non riuscite a piegare queste gambe. Vieni, vieni, vieni. Testa alta. Preliminale verso di me. Occhio qui. Gira sul destro. Gira. Occhio qui. Gira sul destro. Gira sul destro. Gira sul destro. Provare. Bravo, va bene, va bene. Queste poi sono le centrature che piano piano ripetendo impareranno facilmente. Col mirino. Vai, destra avanti. Gira e vai. No, ha buccato. Guarda che bella. Gira e vai. Che bella, ha buccato. Gira, là. Gira, sì. Va bene, non partire sopra. Perché non parte sopra da sopra, capito? Sì. Va bene. Mi parte sopra. Sì. Dai. Forza, ragazzi. Dai, 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 dai. Se la paga tutta la gomma. Questa che cos'è bucchia. Ti sei alzato. Come parlo nelle mucche. Come parlo nelle mucche, come parlo nelle mucche, come parlo nelle mucche.